Assessore Safina, quindi in un certo senso ci siamo, adesso possiamo iniziare a vedere dei lavori sulle strade, soprattutto in determinate frazioni, state provando anche ad acquisire delle strade private, ormai è notorio, ma dove siamo arrivati? Per la manutenzione delle strade abbiamo stanziato 2 milioni e mezzo di euro, quindi una somma cospicua che complessivamente si inserisce tra le due variazioni di bilancio all'interno di investimenti per quasi 10 milioni. Per quanto riguarda poi in particolare le strade, abbiamo stanziato una somma che si aggira intorno ai 700 mila euro per la realizzazione, perché si tratta di una propria realizzazione, delle strade private ad uso pubblico. I ligili urbani hanno fatto dei sopralluoghi, hanno individuato tutta una serie di strade nelle varie frazioni, non asfaltate, ma che sono ad uso pubblico. Queste strade, è chiaro che verranno acquisite al patrimonio comunale, abbiamo già predisposto un iter, ma nelle more che vengono formalmente acquisite, a seguito di disponibilità dei cittadini, noi provvederemo ad asfaltarle, a renderle sicure alla circolazione. Abbiamo già individuato, è già stato fatto la gara per l'individuazione del progettista, dovremo dare indicazioni perché 700 mila euro onestamente rappresentano una piccola parte di quello, non tanto piccolo, ma comunque una parte di ciò che è necessario per asfaltarle tutte, siccome il nostro obiettivo è acquisirle tutte e asfaltarle tutte per rendere tutti i cittadini di serie A, è chiaro che cominceremo quest'anno con questi 700 mila euro, nel prossimo bilancio vedremo distanziare ulteriori somme per ulteriori strade e dunque il progettista è in attesa che l'amministrazione individui le priorità e i criteri anche per individuare queste priorità. Che tempi abbiamo? I tempi io penso che nella primavera prossima verrà fatto l'appalto e dunque partiranno i lavori. Dunque io immagino che prima del prossimo inverno i cittadini che verranno interessati da questi primi lavori potranno avere delle strade asfaltate. I tempi sono quelli diciamo tecnici necessari perché si fanno tutte gare ad evidenza pubblica. Peraltro a discapito di equivoci non ci sarà alcun favoritismo. Saranno i vigili a determinare con una perizia quali sono le strade a uso pubblico perché è corretto che sia così, le strade private a uso pubblico e comunque sarà necessario che i cittadini ce le cedano in modo tale da poterle acquisire definitivamente al patrimonio comunale e da poter garantire a tutti un servizio fondamentale. Beh però una domanda va fatta. Alcune di queste strade la gran parte appunto rigadono nelle frazioni che poi diventeranno quando ci sarà l'iter completato comune di misi di scemi. Ha senso spendere questi soldi? Guardi, io rispondo come rispondo sempre in aula ai consiglieri che per ogni intervento che viene programmato nelle frazioni diciamo di quella dell'ipotetico comune di misi di scemi fanno. Noi fino a quando sono cittadini di Trapani li amministriamo ed è giusto che concediamo loro gli stessi diritti che hanno i cittadini di Trapani città e delle frazioni di Fulgatore che rimarranno del Mocarta che rimarranno comunque nel comune di Trapani. Non esiste che si abbandonano al loro destino sino a quale se il comune di misi di scemi non dovesse mai vedere luce o dovesse vedere luce tra cinque anni. Che faremo? Lasceremmo al loro destino per altri cinque anni? È qualcosa che non sta nella logica e non appartiene alla correttezza di un'amministrazione che è stata letta anche dai cittadini di misi di scemi.